Ciao ragazzi, bentornati da Lima Azzurro siamo qui sul mio canale con la mia carriera con il con il Big Leal ragazzi, la prossima partita sarà il contro il Valencia noi siamo quinti anzi scusate, perdono, quarti in campionato e la nostra la sapete e niente, direi di andare subito al prossimo match e ci vediamo nel match contro il Valencia ok, siamo nel match contro il Valencia partita molto importante per noi vediamo Zazza lì che si riscalda se non sbaglio, no, chi è? Va bene qua è Risma ragazzi ok, siamo in casa e parte adesso Big Leal Valencia subito noi con Vallechio cerchiamo subito la gestione del pallone ancora Vallechio ok, partiamo subito molto ordinati attenzione, l'avevo visto là che scattava eccolo oh, Sheryshev madonna no, la casorla mamma che gol ci siamo mangiati mannaggia ci siamo mangiati un gol assurdo ok, perdiamo ok, perdiamo parla attenzione non diamo dire da così no, 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 no ottimo sempre 0-0 vediamo di non fare stupidaggini lancio per Soler che si ferma parecone riesce ad uscire attenzione che lancio che ha fatto per Guedes madonna mia si recupera meno male attenzione attenzione che l'angelo ha fatto Valieco attenzione attenzione Marino vai passato dentro casorla 1-0 per noi santi casorla bellissima azione ragazzi bellissima grango di casorla 1-0 per noi così bene sicuri abbiamo rischiato un po' inizialmente poi adesso ci siamo ripresi ok ok va benissimo benissimo partiamo subito così attenzione a loro e lancio per Guedes palla ancora lì attenzione attenzione quaresma la colla è nostra no è loro ancora loro Santimina fornals fornals lancia per moreno che non ci arriva poi ancora casorla fornals bacca per sce per soler anzi bellissimo mamma mia chi era paolo fornals mamma mia siamo mangiati un gol fatto ragazzi guardate là di nulla bellissimo una serie di inserimenti potremmo chiuderla già ora attenzione ancora loro che attaccano chiudiamoli congiare il calcio d'angolo però insomma attenzione ottimo lancio per casorla casorla velocissimo Santi casorla si ferma sfondalo mannaggia paolo fornals dovevi sfondarlo ok chiusi perfettamente mamma mia che botta di Trigueros non ha guardato neanche uno look di Trigueros attenzione dobbiamo chiuderla ragazzi no questi ci possono anche fare cosa all'ultimo attenzione nostra ok nostra quasi finito il primo tempo cerchiamo di non fare stronzate proprio ora ok fine primo tempo direi di fare dei cambi sì però mettiamo tocco i cambi posto in bacca che è stato davvero sciupato bacca oggi e metterei anche non so se mettere pedrazza però sono indeciso di metterlo no tanto voglio provare la iun proviamo la iun a posto di mario caspar così per prova non l'ho mai fatto proviamo la iun ricomincia il secondo tempo ancora noi ancora loro voglio dire loro che aprono il secondo tempo possesso palla ancora attenzione qui ecco vediamo di non fare stupidi prima palla di la iun la iun è abbastanza veloce così a prima impressione mamma mia che lancio per soler 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 mamma che ci siamo mangiati che lancio che hanno fatto per soler mi è mancato solo il gol qui la iun fornals david luis fornals moreno tocco i cambi soler ancora lui soler palla e mezzo tocco i cambi mamma che ci siamo mangiati non ci credo no raga abbiamo stato almeno 3 a 0 guardate qua tocco i cambi no raga questo deve essere gol non è possibile che spreco tocco i cambi di cura palla ancora attenzione pressato david luis vedi di fare un intervento no no mamma mia questi qua ci fregano noi continuiamo a fare bellissimo per soler 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 vai fino in fondo soler tocco i cambi non ci credo raga non è possibile ma a quante occasioni abbiamo mangio sprecato raga ma a occasioni proprio nitide non ci credo che cazzo facciamo che cazzo facciamo speriamo troppo questi ci fregano prima o poi tocco i cambi tocco i cambi tocco i cambi tocco i cambi la chiude la chiude lui ed è meritato questo dobbiamo stare 5 a 0 maledizione non 2 5 a 0 dobbiamo stare c'è n'è ancora loro tocco i cambi vediamo vediamo di fare le cose con calma chiediamola anche il 2 a 0 non mi accontento no mannaggia sono gli esterni che si propongono in maniera impressionante vai manu guarda Soler guarda Soler 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 tocco i cambi mamma mia di nulla non ha preso la porta di nulla mannaggia dobbiamo chiuderle queste partite raga Soler si capisce niente più in questa fase di gioco Fornals ok ok bene finisce qui vinciamo 2 a 0 contro il Valencia 2 a 0 per noi fino ad un'altra vittoria importantissima ragazzi e e niente andiamo alla prossima partita contro il Bilbao e ci vediamo lì facciamo allenamenti ancora per i nostri giocatori con ok io direi di allenare Fornals due allenamenti per Fornals ok bene bene andiamo avanti prossima partita contro l'Atletic Bilbao prossima partita contro l'Atletic Bilbao andiamo ok siamo in uno stadio dell'Atletic Bilbao tra poco Atletic Bilbao Villareal e si parte con l'Atletic Bilbao Villareal cerchiamo di recuperare subito palla ancora apertura verso l'Air che brucia tutti attenzione poi si fa recuperare partono subito l'oro attenzione Garzia Garzia ancora lui no Mugnain è per fortuna era fuori gioco di Williams quindi bene meglio per noi attenzione in questione in questione grande recupero non so di chi ancora Trigheiros attenzione 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 a Turitz Fornaz andiamo al cross con lui Fornaz madonna Calcio d'angolo per noi La metto lì Proviamo con David Luiz Valè Valieco No non è possibile Riva la palla ancora all'oro Scupidaggine di Valieco Inanji Williams Bercice Muniain Fermato perfettamente da Mario Gaspar David Luiz Tregeiros Valieco Fornaz Trigheiros Vede Soler Ok ottimo per Bacca 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 Fino in fondo Gerard Moreno Gerard Moreno Madonna Angolo Paratona nel portiere La metto lì Su David Luiz Gerard Moreno Ancora parata assurda di Benyat O chiunque fosse La metto ancora su David Luiz Che va bene in testa Soler Soler Bacca Madonna Stavo scendendo un tiro assurdo Potevamo provare la rovesciata Però Andiamo così più sul sicuro Tanto questi però stanno 1-0 Ragazzi Dobbiamo Dobbiamo fermarli Altro che No va bene Sbagliamo l'appoggio con Bacca Stiamo a recuperare questa partita Questa è tosta Ecco Se ci mettiamo a fare stupidaggine Davvero tosta Pablo Fornals Ancora Pablo Fornals Cerchiamo di metterla per Bacca Padre nostro Siamo sotto Siamo sotto Dobbiamo fare qualcosa per recuperare E provare a mettermi in un modo più Offensivo ragazzi Provare a mettermi in un modo più offensivo Ma non so quale Io voglio provare un modulo Con un trequartista Ragazzi Proviamo così Fornals Un trequartista Quindi ok Soler qui Casorla Fatevi vedere È un cc Quindi può giocare qui Moreno Però qui non ci può stare E dobbiamo mettere Topo e Cambi Che comunque è veloce Lo mettiamo qui Ok Andiamo così raga Più offensivi Dobbiamo cercare di romantare Non voglio perdere Dobbiamo vincere questa partita Dobbiamo Non è possibile Bellissimo per Mario Gaspar Madonna Mario Gaspar Però non ti devi far anticipare così No No raga che errore No 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 Su Saeta Ancora su Saeta Ci porta la palla fuori Per nostra fortuna Palla Palla riconsegata agli avvenzati Begnate Palla begnate Palla per Su Saeta Su Saeta Sulla fascia Attenzione Mette mezzo per Garcia Angolo Angolo per loro raga Dobbiamo fare qualcosa Madonna mia Inaki Williams Ancora lui Mario Gaspar Acceleriamo un po' Scatato che cambi Mannaggia Questi ci rubano la palla Dobbiamo mettere Sheryshev raga Dobbiamo mettere Sheryshev Lancia per Soler Ottimo Per Fornals No Dobbiamo mettere Sheryshev Ragazzi Dobbiamo mettere Toca e Cambi Non so dove E dobbiamo mettere Sheryshev Facciamo così Se si può fare Proviamo No No Gaspar Meno male Fuori gioco Ok Scegli Ma perché Sbagliamo Gli inserimenti Facili Madonna No Maledizione E' ancora questo Managgia Questi non ti lasciano fare niente Non è possibile Neanche un gaspita di passaggio Dio Non è possibile Non riusciamo più a far nulla Non è possibile ragazzi Ottantesimo 1-0 per loro No 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 Non è possibile ragazzi Non ci può Ma no ragazzi Non passa un pallone Non è possibile Proviamo qui dal calcio d'angolo Io mi chiamo come un giocatore Qua Questa partita Questa partita raga Bravo Chiunque tu sia Scerice Ma no Ma non è possibile Ma che Dio Non è possibile Dio cane Non ci riusciamo a passare Un pallone Qui Non è possibile Ragazzi Non è possibile Fai niente Perdiamo questa partita Per questo episodio Penso sia tutto E niente Ci vediamo al prossimo episodio Della carriera Bella Da Slim Mazzur